Misure più restrittive con la chiusura di tutte le attività economiche e industriali non indispensabili della Val di Sangro. La richiesta è contenuta in una lettera sottoscritta da 41 sindaci della provincia di Chieti e inviata al Premier Conte e al Presidente della Regione Marsilio. La lettera aggiunge al termine di giorni di tensione tra i lavoratori, le forze sindacali e le aziende in merito alle condizioni di lavoro e dei trasporti in emergenza coronavirus. Le famiglie vivono situazioni paradossali e di grande ansia, scrivono i sindaci, mentre ai bambini viene giustamente imposto di stare a casa, ai genitori viene chiesto di recarsi a lavorare in fabbrica in cui ci sono grandi assembramenti e il rischio di contagio elevato. Non stiamo forse vanificando gli sforzi degli abruzzesi che si adeguano alla disposizione del governo nella speranza di concorrere con adeguati comportamenti al contenimento del contagio, si domandano i primi cittadini. La richiesta è una sola, prendere provvedimenti adeguati seppur forti e imponenti al fine di tutelare la salute dei lavoratori. I trasporti pubblici per il raggiungimento delle sedi di lavoro, aggiungono i sindaci, non garantiscono gli standard di sicurezza in relazione al numero di corsie, né tantomeno è pensabile ipotizzare che più dipendenti si recchino al lavoro con un'unica auto. Siamo costretti a segnalare la ripresa dell'attività produttiva delle grandi industrie di Val di Sangro e con essa di tutto l'indotto, nonostante le perplessità espresse dai rappresentanti dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro, tanto da indurre a proclamare scioperi al fine di poter garantire a tutti il rispetto delle disposizioni che invitano tutti a restare a casa. Proprio martedì, dopo lo sciopero indetto in Sevel con un'adesione del 60%, l'azienda del Ducato ha comunicato la sospensione delle attività lavorative fino a domenica 22 marzo. La decisione è stata presa per mancanza di componentistica e forniture provenienti da varie aziende dell'indotto. Sono gli effetti immediati del clima che si respira nell'area industriale della Val di Sangro per l'assenza di molti operai che non sono andati a lavorare nelle rispettive aziende e non vi andranno nemmeno nei prossimi giorni per paura del contagio a causa dell'incertezza sui sistemi di sicurezza per la salute.